E rieccoci gentili telespettatori di nuovo collegati come di consueto l'appuntamento con la rubrica dedicata all'economia. Ne parliamo come sempre col direttore Antonio Marino della BCC di Aquara, una delle migliori istituzioni dedicate appunto al cittadino di questo nostro cilento e non solo. Bentrovato direttore. Buongiorno, buongiorno a voi. Oggi di che cosa vogliamo parlare direttore? Ci sono una serie di argomenti, si parla del PNRR, insomma spieghiamo anche ai nostri telespettatori di cosa si tratta. Questo PNRR diciamo che è il progetto dell'Italia futura, no? Però ho scritto qua con resistenza, resilienza, cose, ragione De Luca, no? Disse De Luca l'altro sì, gli darei due anni di carcere a chi l'ha pensata questa cosa, perché vanno a spiegare agli italiani che è la resilienza, queste cose, ma stava a fare più semplicemente come dice De Luca, progetto Italia, no? Sarebbe stato ancora più accessibile, insomma, no? E' verissimo. Progetto Italia, no? Poi, ma giustamente qua dicevo oggi quest'articolo, guarire la giustizia per aiutare l'economia. Effettivamente è così, in Italia abbiamo un problema che è quello della giustizia, sia penale che civile, è la lunghezza dei processi e che purtroppo ci rende come sistema Italia meno appetibile degli investitori stranieri. Tu sai che significa se gli investitori stranieri non vengono in Italia, no? Ma è un problema per tutti, non solo per l'Italia, cioè una nazione che non riesce a trarre investimenti straniere è una nazione monca, insomma, una nazione a metà. Quindi poi soprattutto noi che abbiamo tanto bisogno di gente che viene a investire e che chi investe poi crea occupazione sostanzialmente, questa è una cosa che ci deve piacere. Quindi c'è questo problema. Speriamo che, visto che ce lo chiede l'Europa, perché l'Europa ha detto che vi do i soldi se fate le riforme, questo, in Italia questo concetto non è passato ancora abbastanza, però l'Europa ci ha detto se fate le riforme, a cominciare da questa della giustizia, vi diamo i soldi, se no non ve li diamo. Quindi diciamo che è di buon augurio, ecco, anche per noi. Se riusciamo a fare questa cosa, riusciamo a guarire anche la giustizia in Italia, non sarebbe male. Direttore, tu che, insomma, visiti parecchie aziende del territorio, dobbiamo però fare un'analisi specifica, insomma, forse non è abbastanza, mancano ancora tante aziende nell'impresa, soprattutto, e nella valorizzazione dei prodotti locali, o no? O mi sbaglio, insomma? E soprattutto i recovery fund potrebbero essere un'occasione anche per i nuovi giovani imprenditori, o no? Guardi, il recovery fund dovrebbe essere i soldi messi a disposizione dello Stato italiano per fare quelle opere infrastrutturali, interesse generale, in modo che poi ognuno abbia una strada spianata davanti per fare la sua attività individuale. Non sono fondi che vanno alle singole imprese, sicuramente. L'obiettivo è quello di fare delle opere strutturali, facciamo l'esempio dello stretto di Messina, che poi agevole i collegamenti, le cose, la ferrovia Salerno-Reggio Calabria, la ferrovia Napoli-Bari, e fare queste opere di grande interesse collettivo e poi vanno a giovare a chi ci abita in quelle zone per fare meglio la propria attività economica, e non solo economica. Quindi questo è lo spirito. Non sono soldi che vanno alle singole imprese, ma è chiaro che le singole imprese oggi in Italia sono penalizzate da una serie di fattori, la mancanza di infrastrutture soprattutto, ma anche e soprattutto la burocrazia, perché abbiamo una burocrazia sfissiante per le imprese. Oggi i nostri giovani preferiscono andare in Inghilterra a lavorare in una pizzeria piuttosto che aprire una pizzeria qui, perché sono sommersi da burocrazia. Per aprire un'azienda, qua ci vuole un anno di burocrazia, di pratiche, dalla Camera di Commercio, all'Invesa, eccetera. Quindi preferiscono andare a fare i pizzagori là e non aprirsi un'attività qua. Questo la dice Lunda. Se noi non riusciamo a trovare una soluzione allo strapotere della burocrazia in Italia, avremo sempre più problemi, avremo sempre meno occupazione, perché dove non è facile fare impresa non ci sarà occupazione, quindi è poco ma sicuro. Invece per quanto riguarda lo stato di salute della filiale di Agropoli, io ogni tanto sai benissimo che faccio un po' un discorso anche campanilistico. Essendo Cilento Ciannell ubicato in Agropoli, chiedo anche della nostra filiale locale. Come sta andando? Sta andando bene. Teniamo presente che ha iniziato ad operare l'8 febbraio di quest'anno, quindi sono pochi mesi, però devo dire che i risultati sono a cuori. Da parte tante persone di Agropoli che sono venute, ma anche da Castellabate, da Prignano, da Torchiara, insomma, non ci possiamo lamentare. Ecco, siamo riusciti ad avere una risonanza, diciamo, a livello zonale, ma effettivamente non possiamo lamentarci. C'è che sta andando bene, abbiamo la tre unità lavorative, sono tre bravi ragazzi che ti danno da fare tantissimo, e quindi io sono veramente soddisfatto da questa cosa. Tra l'altro sapete che in questi giorni ad Agropoli ha chiuso una grossa banca come l'Ubbi, che è confluita in Intesa San Paolo. No, sai, questo è un fatto che l'abbiamo sempre detto, che se le grandi banche chiudono le nostre piccole banche, le BCC guadagnano terreno. Ecco, questo dobbiamo dirlo perché, come dicevo quella pubblicità, se gli altri rallentano noi acceleriamo. Molto bene. Allora, proprio per quanto riguarda questo annuncio che hai fatto, la prossima volta, lo annunciamo già da adesso, parleremo dei prodotti che sta pubblicizzando la BCC di Aguara, che sono molto molto interessanti. Grazie direttore. Va benissimo. Grazie.